Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video vi spiego tre semplici passaggi su come risolvere i problemi di audio iniziamo prima ad andare su risoluzione, quindi impostazioni, risoluzioni, problemi, altri strumenti di risoluzione dei problemi andiamo a fare un esegui sulla riproduzione dell'audio, facciamo esegui, farà un rilevamento dei problemi, quindi una scansione e adesso vado sul mio audio, quindi vado su questo altoparlante, questo qua che uso sempre con le cuffie, faccio avanti si apre i miglioramenti audio, ed eccolo qua, e faccio disabilità, tutte le caratteristiche avanzate, faccio ok e applica la correzione il dispositivo audio non è impostato come predefinito, però almeno funziona il dispositivo, funziona quindi chiudo qua, chiudo pure qua, vado un attimo su gestione dispositivi input e output audio, vado sempre sul mio dispositivo audio, faccio già una driver cerco il driver nel computer, questo qua, cerco questo, end point audio, faccio avanti e ho fatto l'aggiornamento dei driver, faccio chiudo, chiudo qua, chiudo qua, vado su impostazioni dell'audio altre impostazioni audio, apro questa schedina, dove stanno tutti i dispositivi audio che ho collegato al mio pc, vado sul mio dispositivo audio, clicco due volte sopra, vado su avanzate, faccio qualità dvd e faccio la prova e l'audio si sente perfettamente quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao